Un omicidio in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti avvenuto nella mattinata di sabato a Casarano in via Lupo, a pochi passi da piazza Petracca. La vittima, un 32enne del posto, è stata affreddata da tre colpi di pistola sparati da una persona a volto scoperto che l'ha raggiunta a bordo di un'auto. Il sicario era sicuramente in compagnia di un altro individuo ed erano insieme nel veicolo dal quale sono partiti i colpi d'arma da fuoco. A nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto dall'ospedale Cardinale Panico di Tricase che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. La zona è stata immediatamente raggiunta anche dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Taurisano e dai carabinieri del comando Compagnia di Casarano che stanno indagando su quanto accaduto. Il 25 ottobre del 2019 il 32enne era già scampato a un tentativo di omicidio. Il 25 ottobre del 2019 il 32enne era già scampato a un tentativo di omicidio.